Grazie a tutti. Si sente? Ci siamo? Ok, anche perché vedremo di contenere in 10 massimo 12 minuti l'illustrazione del tutto per poi rispondere a qualche domanda. Noi siamo alla vecchia maniera, quindi ci piacciono i tweet e i post su Facebook, però un tema importante come il lavoro preferiamo approfondirlo in maniera seria e da esseri umani che parlano e ragionano e non affidano ai tweet ogni loro pensiero quotidiano. Piano sviluppo, perché se si parla di lavoro in Italia non capisco perché lo si debba fare in altre lingue del pianeta, quindi a Milano si dice Ufelefa, a noi piace parlare piano di sviluppo per il lavoro. Poi entreranno nel merito Max, Massimo e Giancarlo con 4 o 5 proposte non di più che però partono da un assunto e questo è il mio cappello introduttivo, non c'è possibilità di rilanciare lavoro, impresa, dipendi, commercio, agricoltura e quant'altro se non si ridiscute tutto quello che è la follia dei vincoli europei. Altri chiacchierano di lavoro senza sfiorare il tema Europa e il tema Euro, mentre invece se non si ridiscute a costo di ripartire da capo annullando tutti i trattati che sono delle ghigliottine, ultime tra i quali il fiscal compact abbiamo sulla testa decine di miliardi di euro di spesa all'anno è una moneta assolutamente criminale e lontana dalle nostre esigenze quindi chiunque parli di lavoro senza tirare in bello l'Europa, le banche e l'euro mente sapendo di mentire e prende in giro la gente. I manifesti che abbiamo alle spalle sono eloquenti da questo punto di vista il basta euro sarà un tema non di campagna elettorale ma di principio e di ragione che porteremo avanti nei prossimi mesi con decine di incontri in tutti i capoluoghi del nord e non solo del nord perché su questo tema ci stanno invitando a Catania, Napoli, a Reggio Calabria, a Taranto e in ogni dove quindi chiunque parli di lavoro senza tirare in ballo le responsabilità dell'Europa e i vincoli demenziali dell'Europa racconta Barzellet. Ci sono alcune proposte molto concrete che non vanno a scopiazzare qualcun altro che hanno delle coperture finanziarie perché altri pensano di regalare tutto a tutti non spiegandoci dove troverebbero i soldi necessari. Noi siamo gente più semplice, la conferenza stampa facciamo a Milano perché la capitale del lavoro è Milano e non sono altre e quindi da qua lanciamo a un governo, messo in un concesso che il governo ci sia ancora settimana prossima però lanciamo al governo che oggi pomeriggio è in carica qualche proposta di buon senso discussa con le categorie che porterebbe a qualche posto di lavoro in più e a qualche milione di euro di spese in meno. Entrando nel merito loro il primo tema che butto io sul tavolo e che stiamo strutturando e di cui nessuno parla per ipocrisia comunque è l'equiperazione dei contratti fra il pubblico e il privato nel senso che c'è un settore che paga sempre che è quello del privato e c'è un settore che invece qualunque cosa accada e comunque lavori bene o male non cambia nulla e quindi portare gli stessi diritti e gli stessi doveri in ambito pubblico rispetto a quello che già accade nel privato ci sembra cosa di ovvio consenso legando una parte dello stipendio pubblico al merito e alla produttività perché non è possibile che due maestre, due vigili urbani, due bibliotecari o due dipendenti pubblici in genere prendano lo stesso stipendio a fine mese o due magistrati senza che sia valutato il loro lavoro e i risultati del loro lavoro questo è per giustizia nei confronti dei dipendenti pubblici che lavorano di più e bene e che sono frustrati dal fatto che un dipendente pubblico è illicenziabile nel privato chiunque può finire in mezzo a una strada nell'arco di poche ore nel pubblico no, quindi equipare i diritti e i doveri e le garanzie del privato e del pubblico ci sembra che servirebbe a rendere un pochino più serio e competitivo un paese sull'orlo del fallimento, questo è il cappello introduttivo che non solo non costa ma anzi porterebbe soldi in più nell'ex dello Stato perché se è vero che ci sono dipendenti pubblici che lavorano anche per i loro colleghi assenteisti risparmerebbe probabilmente una vagonata di milioni di euro lasciando a casa qualcuno che il suo lavoro non lo fa senza entrare nel merito ricorderete tutte le vicende di persone colte anche sul fatto a rubare che stanno ancora facendo il loro pubblico non lavoro quindi questo è il cappello introduttivo, non l'abbiamo sentito da nessuno mentre invece piacerebbe che su questo si dibattesse anche nel pubblico impiego quello che lavora quindi legare lo stipendio al merito comporta un risparmio e una maggiore efficienza sicuramente dalla macchina della pubblica amministrazione io partirei da Massimiliano Fedriga che si occupa di lavoro e poi passando per Giancarlo Giorgetti e Massimo Vittonci e poi per chiudere con le vostre domande grazie Matteo e come dicevo io presenterò la parte strettamente inerente al lavoro voglio solo fare una premessa che noi abbiamo cercato di dare delle risposte che in un momento nel quale c'è una diga che sta straripando con il 42,3% di disoccupazione giovanile e il 12,7% di disoccupazione generale le altre risposte che abbiamo sentito in questi giorni sembrano dei piccoli argini in argilla che non riescono assolutamente a tenere un fiume in piena della disoccupazione e del dramma che stanno vivendo i nostri cittadini quindi abbiamo ritenuto che serve una misura molto forte, una misura d'urto per andare ad affrontare questi problemi che investono laboratori e imprese e per questo la Lega propone che venga introdotto un nuovo tipo di contratto a tempo indeterminato basato sulla flex security interna cosa vuol dire? significa che il lavoratore in cambio della stabilità del posto di lavoro il datore di lavoro può utilizzare al meglio la risorsa umana ovvero poterli cambiare mansione e anche orari di lavoro al fine di ottimizzare rispetto alle esigenze produttive dell'azienda insieme a questo aggiungiamo una forte decontribuzione fatta a crescere negli anni così sempre per favorire la stabilizzazione quindi una miglior contribuzione che il datore di lavoro deve pagare e che il lavoratore paga significa più soldi all'impresa più soldi in busta paga questo perché tenete conto che nel nostro paese abbiamo una total tax rate dell'impresa che è del 68,3% io vengo da Trieste, faccio pochi chilometri in Slovenia dove la total tax rate dell'impresa è del 34% l'esatta in questo modo è impossibile che le nostre imprese possano essere competitive produrre e offrire posti di lavoro senza impresa non esistono posti di lavoro o nuovi posti di lavoro in secondo luogo sempre con questo tipo di contratto prevediamo la riduzione dell'IRPEF a carico datoriale del 50% questo vorremmo che diventasse sono misure che durano per 5 anni quindi nell'ingresso del mondo del lavoro del giovane della persona che ha perso il lavoro indifferentemente dall'età in questo modo vogliamo aumentare la competitività dell'impresa e a conto luogo rilanciare il mercato interno maggiori soldi lasciamo nella busta paga dei lavoratori maggior consumo ci sono nel paese un circolo virtuoso per cui le aziende producono di più abbiamo voluto però e cerco di stare nel limite dei tempi che ha detto il segretario federale quindi nei pochi minuti tenere in considerazione di due particolari categorie che vivono in un momento di dramma economico e sociale ovvero i giovani di cui vi ho parlato e soprattutto cose di cui tutti si sono dimenticati degli over 50 ovvero quelle persone che hanno perso il lavoro e che allo stato attuale non riescono a ricollocarsi per quanto riguarda gli under 30 oltre questa possibilità di questo contratto a tempo indeterminato basato sulla flex security c'è anche la possibilità di attivare degli altri tipi di contratto quindi tutti quelli diversi dal tempo indeterminato con l'abbattimento del 50% dell'IRPEF noi vogliamo sfidare il centro-sinistra e il governo su questo hanno sempre venduto che per fare più contratti a tempo indeterminato bisogna alzare il costo degli altri tipi di contratti noi invece crediamo che per incentivare il costo a tempo indeterminato bisogna rendere più vantaggioso il contratto a tempo indeterminato ma non penalizzare altri tipi di contratti perché altrimenti vorrebbe dire spostare nel privato una tassazione che allo stato attuale è già insostenibile per le nostre imprese per quanto invece riguarda gli over 50 prevediamo che per due anni e per qualsiasi tipo di contratto con qualsiasi tipo di contratto vengono assutti per loro ci sia la totale esenzione da parte dell'impresa degli oneri contributivi questo perché crediamo che una persona che magari vicina all'età pensionabile però assolutamente senza alcuna prospettiva occupazionale sia più che disposta a rinunciare agli oneri contributivi pagati da se stessa e dall'azienda piuttosto di avere un reddito in questo momento non abbiamo persone che non hanno alcun tipo di reddito e che rischiano veramente di sfociare in un'emergenza sociale continua e su queste basi noi crediamo che si possa fare una sfida vera e forte dopo sulle coperture parlerà Massimo ma ovviamente già all'interno di questa misura noi ipotizziamo che su 5 milioni tenete conto che ci sono circa 10 milioni di contratti all'anno che vengono attivati di cui tra un milione e mezzo e due sono a tempo indeterminato noi vediamo che con questa Flex Security si potrebbe arrivare a contratti annuali con questa tipologia di contratti di 5 milioni di cui 2 milioni sono quelli circa che ci sono già un milione saranno quelli che passano da altri tipi di contratto a quelli a tempo indeterminato all'incirca da un milione e mezzo a due potrebbero essere nuovi contratti e già da questo vuol dire nuove entrate per lo Stato pensate solamente al risparmio che ci sarebbe negli oneri sociali la maggior gettito per esempio di IVA negli acquisti che fa uno quotidianamente e migliora le tasse che comunque pagano le aziende producendo l'alternativa ad avvassare le tasse non è avere più tasse ma è non avere tasse perché le imprese chiudono e i cittadini rimangono a casa faccio e chiudo un brevissimo capello che non è in questi punti principali però è importante vogliamo rivedere anche tutto il sistema di ricollocamento e ricollocamento delle imprese, dei lavoratori cosa significa? Abbiamo previsto un meccanismo per il quale se un centro per l'impiego e sappiamo l'efficienza scarsissima dei centri per l'impiego non garantisce almeno la media nazionale del successo nel trovare lavoro deve essere chiuso i centri per l'impiego non possono diventare l'impiego soltanto di chi ci lavora dentro e non in chi invece si rivolge per trovare un'occupazione questo vale anche per le agenzie del lavoro private vogliamo invece prevedere dei meccanismi premiali per chi ha più successo e infine per i corsi di formazione che purtroppo troppe volte sono spesi soldi per pagare lo stipendio a chi insegna ma non trova lavoro a chi li frequenta a differenza di quanto ha detto il segretario del PD che vorrebbe fare corsi di formazione per tutti noi invece vogliamo limitare i corsi di formazione a quelli che servono e danno lavoro è inutile sprecare risorse ma noi vogliamo che i corsi di formazione abbiano successo e per questo, e chiudo, la nostra proposta prevede che se chi frequenta il corso di formazione entro il primo anno almeno il 50% non trova impiego quel corso di formazione non possa più essere rifinanzato grazie abbiamo uno dei temi che ricorre è quello del credito il credit crunch che riguarda soprattutto le imprese, le piccole e le medie imprese qua la nostra proposta in qualche modo riprende il dibattito che è in corso di ripresa e separazione dell'attività bancaria tra quella tipica bancaria e quella di tipo speculativo semplicemente non creando due realtà giuridicamente distinte quanto introducendo una tassazione differenziata tra il reddito generato sulla banca per intenderci dall'attività tipica caratteristica di erogazione di presidi alle imprese rispetto il reddito che presso questa banca viene generato dall'attività speculativa e di investimento ad esempio sui titoli di Stato in questo modo senza introdurre un obbligo sulle aziende di credito ma introducendo un incentivo a fare quello che dovrebbero fare le banche cioè prestare finanziamenti a imprese e famiglie e disincentivando sotto l'aspetto della tassazione quella che oggi è diventata la comoda attività e più semplice attività di contrarre prestiti presso la banca centrale europea all'1% e investirli in titoli di Stato che possono rendere fino al 3 o al 4% una tassazione differenziata che potrebbe, ovviamente noi proponiamo a livello nazionale ma che potrebbe esordire, in questo senso abbiamo sollecitato ad esempio l'assessore regionale Garavaglia, regionale Lombardia con quella piccola parte di IRAP che è di competenza regionale verificare la possibilità se già su questa piccola parte di IRAP di competenza regionale si può intervenire creando una differenziazione quindi un trattamento privilegiato per quelle banche che riprendono a erogare credito e a finanziare l'economia Grazie, noi come ultimo punto trattiamo il tema della tassazione che abbiamo visto, insomma tutti ne parlano è il tema più gettonato, soprattutto quello del taglio del cuneo fiscale abbiamo raggiunto una tassazione, come diceva prima l'onorevole Fedriga, che è superiore a quella reale al 63,8% questi sono dati ormai confermati cioè è la tassazione tra le più altre, non solo in Europa ma anche a livello mondiale e quindi noi riteniamo che sia un po' banale parlare di taglio delle tasse, ne parlano un po' tutti in realtà uno dei premi più grossi che hanno i nostri imprenditori è il problema della burocrazia, cioè burocrazia di adempimenti è stato valutato che la sommatoria di adempimenti che sono migliaia dei nostri imprenditori, artigiani e professionisti costa agli stessi circa 5 miliardi all'anno quindi è un costo direi assurdo quindi noi in maniera del tutto provocatoria come esempio proponiamo un regime abbiamo anche altre proposte ovviamente di legge depositate in questo senso mutuando un po' se vi ricordate le proposte dell'ex ministro Zaia sulla agricoltura a chilometri zero in un regime di contabilità a costi zero per i lavoratori autonomi le imprese con meno di 5 dipendenti e un fatturato inferiore a 250 mila euro su questi un pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% ma la cosa direi più importante è che in questo caso non ci sono adempimenti e se i pagamenti sono completamente tracciabili cioè effettuati mediante il conto credo bancario basta la tenuta delle fatture e degli stati conti bancari io penso che questa sia una novità e un'innovazione che può aiutare i nostri imprenditori a veramente fare meno scartoffie e tenere meno carte possibili per quanto riguarda poi le coperture noi pensiamo che ci sono alcune proposte come quella che abbiamo fatto prima sul lavoro che hanno tranquillamente una propria copertura mentre per quanto riguarda le altre lo diciamo da tempo e ci stupiamo che questa cosa non venga applicata che è relativa all'applicazione dei costi standard in sanità voi sapete che l'applicazione dei costi standard relativa al settore della sanità come viene fatto in Lombardia e in Veneto porterebbe un risparmio annuo di ben 30 miliardi questa noi vorremmo che fosse utilizzata come copertura per queste attività e poi concludo con una provocazione non ci accetterà mai la ragionaria generale dello Stato però è stato dimostrato che l'aumento dei due punti percentuali dell'IVA ha contratto i consumi e ha provocato lo scorso anno una diminuzione dell'IVA quindi delle imposte indirette di ben 4 miliardi quindi noi come copertura proponiamo il taglio invece di due punti dell'imposta sul valore aggiunto che invece porterebbe a un effetto contrario quindi a un aumento dei consumi ed entrati almeno pari a 4 miliardi perfetto anche troppo veloci quindi mi sembra che i primi 5 punti con relative coperture siano chiare ed evidenti se ci sono domande siamo a disposizione se ci sono domande vuol dire che siano stati assolutamente precisi e rapidi queste sono proposte che servono a dare un lavoro a chi l'ha perso quindi ci auguriamo che al di là delle etichette politiche vengano raccolte da chiunque sia in questo momento al governo ci piacerebbe fosse fatto obiettivamente non ci conto più di tanto non ci conto più di tanto vista l'aria che tira di liberi tutti all'interno della maggioranza in discioglimento però sfido chiunque dai sindacati ai rappresentanti delle categorie produttive a dirmi che queste sono proposte che non servono al lavoro ripeto correrebbe un minimo di onestà intellettuale di coraggio e ridiscutere anche vincoli europei che impediscono di attuare la gran parte di questi provvedimenti quindi se così fosse se Renzi avrà l'apertura mentale di confrontarsi sul terreno delle poste concrete non solo sui tweet noi queste sono proposte che dall'opposizione saremmo ben contenti diventassero proposte di governo anche se ne parlavamo prima anche quando il governo del Parlamento decidono qualcosa come il pedaggio omogeneo in tutta Italia delle autostrade e questo 2010 a 4 anni di distanza non c'è ancora notizia dell'applicazione di quello che a qualunque essere umano normale sembrerebbe cosa ovvia però anche lì c'è stato un TAR che si è messo di mezzo quindi la prossima volta leggeremo i giudici dei TAR così evitiamo di leggere il Parlamento leggiamo i giudici dei TAR così decidono loro come deve funzionare il Paese l'obiettivo della Lega è di vincere tutte le elezioni amministrative a cui ci presenteremo a maggio e di vincere le elezioni europee a cui ci presenteremo a maggio con il nostro simbolo da nord a sud per portare a Bruxelles l'idea che un'altra Europa è possibile di elezioni regionali visto che la cadenza naturale di Veneto e Piemonte è il 2015 parleremo del 2015 verrà quindi fatto ricorso alla decisione del Stato? certo a una sentenza ingiunta si fa ricorso quando il Comune di Milano mi manda a casa la richiesta per pagare una multa che ho già pagato evidentemente faccio ricorso e quindi qua c'è in ballo più di una multa qua c'è in ballo il voto di qualche milione di cittadini piemontesi quindi è banale che si faccia ricorso e ci aspettiamo che sia banale che il ricorso venga accolto a quello che lo Stato italiano mette a disposizione che è il Consiglio di Stato sono esperto di voto di lavoro di Europa e di cose da fare non di cavi burocrati ma visto che sono giudici di diversi organismi che hanno fatto la sfeda hanno disfatto la scheda e quindi siano loro a dire che alla fin fine se abbiamo scherzato per quattro anni se i piemontesi hanno votato per niente quindi l'istanza è quella e contiamo che venga accolta anche perché ripeto le presunte irregolarità della Lega diventano tali rapidamente le presunte irregolarità della sinistra rimangono in archivio a tempo indeterminato quindi noi facciamo ancora un briciolo di affidamento sulla giustizia italiana quindi sull'ora le proposte sono così chiare sensate intelligenti hanno copertura finanziaria che non c'è bisogno di approfondire nulla questo ci riempie di soddisfazione grazie grazie